perché stai a dire ma il suo caldo ma così perché a tutti io non mi sono mai c'è una televisione che non mi fa mai io non la faccio la pressa non ti comprometto la pressa e come è? perchè? non è vero se mi chiamano pure veniva perché non è vero Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.